io avrei una domanda più da nerd in Captain America Civil War voi da qui quante stavate? Captain America o Iron Man? io sono di parte con Captain America no scherzo immagini no 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 vabbè con il signor Stagio Stagio due volte a prendere non posso sono di parte lei ancora non c'era non so se può rispondere può rispondere all'aspetto di ricerca io stavo dietro in staserazione che non c'era no confesso una cosa io ho una cosa ma è una cosa personale quindi non c'è niente come un film io ho una grande passione per Robert Downey credo che ogni cosa che non faccia sia incredibile è una costruzione di battute due team Iron Man due team Iron Man vediamo cosa dice le sono fatte troppo in modo particolare in creativo con intelligenza l'ironia è un modo pazzesco e quindi sono sempre un modo per la parola via e secondo me è un attore più bravo di Chris Evans come no e se è il nome e se è il nome e se è il nome io ho capito è un posto che non è chiuso per poterlo non può attenzionare il mio e non può attenzionare il mio